Matteo Sprocati, eroe per cazzo, al Tardini, Matteo Sprocati, gol, il Parma ha in vantaggio con il sinistro, Matteo Sprocati ha paradiato la concorrenza di tutti, ha rotto un equilibrio Romeo, l'abbiamo criticato, non l'abbiamo accattato, ma lui ci ha ripagato così, con questo schiaffo che mi prendo volentieri in faccia, grazie Matteo per lo splendido regalo, eccolo qui su sinistro, con chiude la partita, Cornelius! Andreas, Cornelius, finisce qui, finisce in gloria, che partita vincere, è un tripudio questa partita che termina in gloria, Succa in vita a tutti ad alzarsi in piedi, perché questo, amici di Radio Bruno, è un grandissimo Parma!